Un intero seggio elettorale chiuso qui a Palermo. Siamo all'istituto di istruzione Leonardo Da Vinci, in via Serra di Falco. Le sezioni sono state accorpate in altri seggi, ma gli elettori non sono stati avvisati. Cioè noi non sappiamo che la scuola era chiusa, non sappiamo, nessuno ci ha avvisato in quale scuola andrà a votare, che sezione. Buio completo. Lei era venuto qua per votare? Certo, qua. Ecco qua. Sì, sì, ero venuto qua per votare, ma è chiusa la scuola. Senza alcun avviso? Senza nessun niente. Non sono capace, non sono all'altezza, si mettano da parte e facciano fare il lavoro a chi lo sanno fare. Cosa farà adesso? Niente, tutto che devo fare? Non c'è nessun avviso. Come me tutta la gente è così combinata. La scuola è chiusa, l'ho sempre votato da più di dieci anni. C'è nessuno che vi ha avvisato qua? No. Senta che il diritto di voto le venga a mancare? Negato, non mancare, negato. Negato, ok? Io rimanderei le elezioni e le annullerei, perché tutte queste disfunzioni creeranno sicuramente non solo malumore. Ma non sarà un voto, come dire, normale, legale. No. 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 No.